Due giornate di chiusura generale di tutte le attività. Questo il contenuto dell'ordinanza firmata dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli che replica così le misure messe già in atto per Pasqua e Pasquetta. Nelle giornate del 25 aprile e primo maggio sarà così vietato anche il commercio dei generi alimentari in area pubblica. Stop totale dunque per il mercato settimanale, per quello orionale e per i posteggi fissi. Il provvedimento andrà a toccare in prima battuta il mercato settimanale del Giotto, attualmente già limitato ai soli generi alimentari. Per la festa della liberazione dunque ci sarà lo stop anche a questa forma di commercio. Per quanto riguarda invece la festa del lavoro sono due i mercati ad essere interdetti, quelli rionali di Saione e Sant'Agostino, permessi accordati per le due giornate solamente per farmacie, parafarmacie ed edicole. La razza del provvedimento siglato dal sindaco Alessandro Ghinelli, oltre che a quella di conformarsi alle disposizioni nazionali e regionali, è quella di limitare gli spostamenti dei cittadini in questa fase di emergenza sanitaria e dunque tutelare la salute pubblica. Nelle due giornate saranno ovviamente anche intensificati i controlli in tutta la città.